caramente buongiorno e ben ritrovati con l'incontro quotidiano con la parola il versetto di oggi lo trova in isaia 41 versetto 4 che dice chi ha operato e compiuto questo chiamando le generazioni fin dal principio io l'eterno sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso in questo versetto il signore sta parlando e si sta rivolgendo al suo popolo in che modo lo sta incoraggiando perché lui è il grande e onnipotente dio infatti lui dà diversi esempi in questo capitolo parla e si rivolge come si rivolge a un fabbro che incoraggia l'orafo al versetto 7 che rifinisce col martello incoraggia chi batte l'incontro e dice dalla salatura va bene la rinforza con chiodi perché non si smuova e questo che fa il signore lui ci rinforza e vuole rinforzarci quotidianamente lui parla del suo popolo sul grande popolo e dice una cosa molto importante al versetto 10 versetto 9 10 te che ho preso dall'estremità dalla terra che ho chiamato dagli angoli più remoti di essa ti ho detto tu sei il mio servo ti ho scelto e non ti ho regittato il signore chiama tutto suo popolo e tutti noi anche se noi veniamo dall'estremità della terra e che cosa dice a questo popolo che lui ha chiamato e che lui ha scelto e che non ha regittato non temere versetto 10 perché io sono con te non smarrirti perché io sono il tuo dio io ti fortifico e anche ti aiuto e ti sostengo con la destra della mia giustizia questo è quello che fa il signore lui ci sostiene ci sostiene in che modo lui ci aiuta ci sostiene con la destra che la sua mano destra che la mano della giustizia del signore il signore non vuole che noi siamo smarriti che abbiamo timore perché lui è colui che ci fortifica sempre anche se veniamo dall'estremità della terra l'estremità della terra rappresenta in qualche modo noi che veniamo da una situazione lontana distante che magari è distante proprio dal signore il nostro dio che ci fortifica magari è una situazione difficile noi non ci sentiamo in qualche modo avvicinarci a questo signore ma lui che ci chiama dall'estremità della terra di venire a lui perché anche nei momenti di difficoltà lui sempre ci fortifica ci sostiene con la mano destra della sua giustizia perché questo è quello che dio è il signore è giustizia e porta giustizia il suo popolo magari oggi noi ci sentiamo un pochino smarriti abbiamo dei timori nella nostra vita presente ma non dimentichiamo di dire questo dio che ci fortifica ci fortifica nel momento dove noi abbiamo più bisogno lode al nostro dio onnipotente perché come dice versetto di oggi che versetto 4 chi è che ha operato e compiuto tutto questo chi è che ha chiamato le generazioni dal principio è l'eterno lui dice io l'eterno sono il primo e con gli ultimi sarò sempre lo stesso lui rimane sempre lo stesso questo dio che porta giustizia le nostre vite un bellissimo passaggio questa mattina che ci fa pensare noi siamo servitori di questo dio e lui ci ha scelto che signore possa venirci oggi nel nostro percorso quotidiano che ci possa rafforzare e se ci sentiamo indeboliti noi dobbiamo rivolgerci a questo dio un dio che ci ama e ci prende cura di ognuno di noi signore lode a te il tuo nome sia lodato in eterno perché tu ci fortifichi quotidianamente quindi benedicici in questa giornata o signore rafforzaci tu nei momenti di debolezza o signore grazie grazie per il tuo grande amore benedicici a tutti quelli che ascoltano questo messaggio che possano essere incoraggiati da queste parole parole di vita perché il nostro signore è il signore che dona la vita ti chiediamo tutto questo nel nome di gesù ame grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti